Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. Il sito di Traiano, una mostra dedicata all'artista Park Eunsun, uno degli scultori coreani più noti. Nelle sculture esposte si intrecciano la tradizione coreana e la civiltà italiana. E poi è in corso fino al 15 gennaio al macro di Via Nizza, fotografia festival internazionale di Roma, dedicato quest'anno al ritratto. Ma come sempre 060606 24 ore su 24, cliccate su comune.roma.it.